Martedì 13 novembre 2018 Buongiorno, ben trovati, secondo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara che in primo piano ha un titolo di cronaca, lo vedete alle mie spalle, eccolo qui inquadrato in primo piano, un fatto di cronaca accaduto in pieno centro, fidanzatini malmenati e rapinati, paura in via Carducci, vittime due minorenni, gang incastrata dalle telecamere. Poi l'Abruzzo a Roma, ieri per difendere i pendolari dei bus, il no netto al trasferimento del terminal dalla stazione Tiburtina al quartiere Anagnina. Vediamo anche le cronache Pescara, menze a scuola in 2300, rivolgono la retta di giugno e poi ex promotore deve risarcire la risparmiatrice. Poi a Francavilla al mare, furto a San Franco, presso e ritrovato lo spadino d'oro. Discarica di piano d'orta, vedete il titolo più in basso, sette indagati o messa bonifica per sindaco di Bolognano e vertici Edison, coinvolto dirigente della Regione. Andiamo nella parca alta della pagina perché si parla di politica, parlano rettori e imprenditori a Bruzzo verso il voto come affrontare le dieci emergenze. Ma poi nel concreto sono già partite le grandi manovre elettorali, è già partita di fatto la campagna elettorale. Bella Chioma, coordinatore regionale della Lega, dice La Lega è stufa di aspettare, noi partiamo, avevamo ascoltato il coordinatore della Lega proprio sabato scorso, in occasione della presentazione a Montesilvano dell'ingresso nella Lega di due sindaci dei comuni, in provincia di Pescara, di Pianella e Catignano. E poi Di Stefano si candida spaccando il centro-destra, Di Stefano che ha presentato, in pratica è partito con la sua campagna elettorale, ha presentato il programma, appoggiato per il momento da liste civiche. Andiamo a vedere la prima pagina del centro di Chieti-Lanciano-Vasto, la cronaca giudiziaria in primo piano, la procura Ergastolo per Marfisi, il dubbio omicidio di Ortona, presentato il ricorso contro la condanna a 30 anni. Vediamo nelle cronache Chieti-Megalò, scoppia la polemica delle strisce blu, Lanciano-Lavanderia Asle in quattro a processo, Colasanti assolto e poi Chieti, la cronaca tenta di gettarsi dal ponte, salvato dalla polizia. E poi a vasto, stupri, chiesto il giudizio per nove indagati, chiuse le indagini sulle violenze del gruppo, le denunce partite da due ragazze. Vediamo la prima pagina del centro, edizione di Teramo, ricostruzione premio contestato, 13 mila euro al direttore USR Marcello D'Alberto come indennità di risultato, Giulia Nova morte per droga sotto esame anche il ruolo dei medici, e poi Teramo ex manicomio, ecco il progetto per il recupero da Teramo a Silvi, anziano derubato dal marito della badante. Vediamo poi un altro titolo, in basso sotto la foto di centro pagina, raccolta rifiuti, due indagati per abuso, inchiesta sul servizio svolto a Canzano e Castellalto dal consorzio AM di Pineto. Andiamo a vedere la prima pagina del centro di L'Aquila, Vezzano e Sulmona. Trovato morto, indagato l'amico, L'Aquila nei guai dopo averlo ospitato per la notte al progetto case, ipotesi, overdose. Terremoto dell'Aquila, letta o barca per il comitato del decennale. E poi la tragedia, la morte scomparsa del generale Guido Conti per il PM. Il caso è da archiviare. E poi a Pacentro, folla ai funerali per la morte della guida alpina, proprio di Pacentro, che era scomparsa domenica scorsa a causa di un malore. Vediamo anche quello che succede nella Marsica da Vezzano. I negozianti chiedono la sosta gratis a Natale dopo il calo di vendite, con pista ciclabile e zona pedonale. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Eccola qui, Terminal Bus, partita la rivolta. La delegazione abruzzese occupa la Tiburtina, no al trasferimento ad Anagnina. E poi, attacchi del Movimento 5 Stelle, flash mob dei giornalisti, questa mattina a Pescara. Vediamo poi a centropagina, rifiuti tossici, piano d'orta, sei indagati. E poi a Lanciano, rischio aggressione in carcere, trasferita la gang di Lanciano. Vediamo anche nella parte alta della pagina, regionali di Stefano Candidato, con le liste civiche, vedete il titolo, ma strizza l'occhio al centrodestra. Poi lo sport, il calcio, Chieti, Lanciano e L'Aquila, il risveglio delle capitali. Pescara, squadra svuotata dalle convocazioni nazionali. Dopo la sconfitta di Palermo ci sarà la sosta, non si giocherà nel prossimo weekend, ma Biancazzurri domani riprenderanno la preparazione in vista della gara del 25 novembre allo Stadio Adriatico, domenica alle 15 con l'Ascola. In questa settimana Pillon lavorerà però ad organico ridotto, perché ci sono tanti giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano La Città. Spari in hotel c'è un altro indagato, pregiudicato pugliese nei guai per la rissa con le pistole all'hotel Atlante di Alba Adriatica. E poi una torre all'ex manicomio Masterplan, il progetto di recupero, assegnato allo studio dell'architetto Desideri. La politica più in basso di Stefano Sicandida e Zingaretti scende in piazza, l'ex onorevole spacca il centrodestra, il governatore della Regione Lazio lancia la sfida nel PD. Vediamo anche in alto, a Teramo attesi 10.000 redditi di cittadinanza, lo dice un'indagine del sole 24 ore. Poi verso le regionali, come detto, sono già partite e iniziate le grandi manovre. Giulio Sottanelli e Degno Pavone ballano assieme. Questo è il titolo che leggiamo sul quotidiano La Città. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere invece i titoli dei giornali nazionali. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Tre mesi fa il crollo del Ponte Morandi. La città, siamo a Genova, sta ancora aspettando un progetto. E poi la manovra quota 100 a segni decurtati tra il 5 e il 34%. I Vescovi, se si sbaglia, nessuno ci salva in pensione con i supertagli. Tensioni tra Salvini e Di Maio. Slitta il vertice sulla risposta all'Europa. Andiamo a vedere Repubblica, TAV, l'ultimatum della Francia. Non possiamo perdere i fondi dell'Unione Europea. E poi vedete, più a centro pagina, la nuova vita di Michelle Obama, ma in politica sempre per gli altri. E poi, a proposito della manifestazione che ci sarà in molte città per ribadire l'importanza di una stampa libera e indipendente, parla anche il Presidente della Repubblica, Mattarella. Io leggo i giornali. La libertà di stampa vuol dire conoscere le idee di tutti. E come detto, questa mattina ci sarà anche un flash mob a Pescara, nei pressi della provincia e del Palazzo della Prefettura. Siamo al quotidiano libero, i grillini spaccano l'Italia, ci toccherà adottare un meridionale a testa, scrive Libero. Reddito di cittadinanza, sgravi fiscali e contributivi, condoni di Equitalia. Andiamo a vedere anche il fatto quotidiano. TAV, tre mesi di stop dalla Francia per la trattativa 5 Stelle Salvini. E poi in alto, MPS, Monte dei Paschi, 330 milioni buttati in diamanti, leggiamo da questo titolo, per la banca. Sono in arrivo nuovi guai. Vediamo il messaggero, la prima pagina nazionale. Pensioni, i tagli con quota 100. Le stime, uscita anticipata, riduzioni degli assegni fino al 30%. E poi l'allarme vaccino in molte regioni, poca copertura. E poi un titolo che riguarda lo sport, ma quello che è accaduto nel Lazio in un campionato minore, ultra contro arbitri. Il calcio si ferma, stoppa i campionati minori nel Lazio. Interviene il governo. Andiamo a vedere il giornale, il governo rapina il Nord, vergogna assistenzialista, scrive il quotidiano milanese. Vediamo anche il mattino, quota 100. I tagli alle pensioni, calcoli dell'ufficio parlamentare di bilancio, riduzioni degli assegni fino al 30%. Il sole 24 ore, mutui, tassi in crescita per colpa dello spread, salito. A quota 300. Vediamo anche il quotidiano La Verità. I ricchi conti correnti dei Renzi nell'era del bulo a Palazzo Chigi. Questo il titolo principale del quotidiano La Verità. Le sorprese dell'inchiesta Consi. E poi il fattore di Battista sul rimpasto di governo. Questo è l'altro titolo con corredo di foto. E poi un titolo in basso. Vedete, sputare sui poliziotti non è più reato. Giudice assolve manifestante per tenuità del gesto. Ma così salta il senso dello Stato. Vediamo il manifesto. Cronista d'assalto. La libertà di stampa ha un grande valore. Dopo gli attacchi dei 5 Stelle ai giornalisti, Mattarella scende in campo in difesa del diritto di cronaca. Importante anche ciò che non si condivide. Fico si smarca dalle minacce dei vertici. Griglini e poi in alto Salvini e Di Maio uniti sul no all'Unione Europea. Vediamo il tempo di Roma. La casta delle comunità montane ancora sprechi. Un mare di soldi ai carrozzoni pubblici che dovevano sparire. Zingaretti li aveva aboliti nel 2016. Ma la Regione Lazio continua a finanziarli. La stampa di Torino, TAV, Parigi, Avvisaroma e Grillo va all'attacco della piazza di Torino. Siamo al secolo.it. Demolire per rinascere. Il piano prevede che il 15 dicembre potranno finalmente partire i lavori di demolizione. Ha detto il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. Abbiamo visto anche dagli altri quotidiani come a distanza di tre mesi dalla tragedia del viadotto. I cittadini stiano ancora ad aspettare l'avvio dei lavori che, come leggiamo qui, potrebbero partire il 15 dicembre. Siamo al secolo XIX, proprio il quotidiano genovese. Ponte giù dal 15 dicembre. Esplosivi per un troncone. Lavori affidati senza gara. Lasciamo anche il quotidiano genovese. Siamo al giornale della conferenza episcopale italiana Avvenire. Un paese sospeso. Il presidente della CEI Bassetti apre l'assemblea con preoccupazione per le fragilità dei territori e persone. E poi andiamo nello Yemen. Le stragi continuano nel silenzio. Centinaia di morti. L'ONU, catastrofe vicina. E poi stampa libera preziosa. Richiamo di Mattarella. Anche i presidenti, leggiamo in alto, di Camera e Senato, Fico e Casellati, difendono l'indipendenza dei media dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle. Siamo dunque, abbiamo esaurito le pagine relative al Dicona Nazionale. Possiamo tornare alle questioni di casa nostra. Possiamo ripartire dal quotidiano Il Centro. Si parla di politica. Pagina 2. L'Abruzzo e le sue dieci priorità. E chi sarà in grado di risolverle? Dalle frane e gli appalti veloci per avere scuole sicure ai depuratori. Il mare pulito le industrie viene il centro, fa questo, rivolge, se così possiamo dire, queste domande a personaggi illustri dell'imprenditoria della nostra regione. Vedete la parola, la risposta ai rettori delle università di Pescara Chieti, L'Aquila e Teramo. E poi parlano anche gli imprenditori, vedete in basso anche il parere di Agostino Ballone, presidente di Confindustria, di Graziano Di Costanzo, che è il direttore della CNA Abruzzo. Ma ieri a Roma c'è stata la mobilitazione per difendere il terminal bus Tiburtina, no al trasferimento ad Anagnina. Il sindaco Raggi ci ripensi, tanti amministratori ieri sono arrivati nella capitale per dire no a questo spostamento. Allora possiamo andare a vedere a questo punto il primo servizio di oggi, proprio sulla manifestazione che si è tenuta ieri nella capitale. Perché l'Abruzzo dice no allo spostamento di Tibus? Perché è un costo insopportabile in termini di tempo, in termini di denaro, in termini di organizzazione aziendale per le nostre imprese di trasporto, perché Roma attraverso Tiburtina è vicino all'Abruzzo. Se invece fosse Anagnina ci allontana. Gli abruzzesi sono stati solidali con la città capitale. Quando in questi anni ci sono stati problemi dei rifiuti, ci aspettiamo che restituiscano la stessa solidarietà. Tra l'altro Roma capitale gode di legislazione speciale, proprio per essere capitale di tutti. Questa è un'occasione nella quale va dimostrato. E appare quantomeno assurdo che siano tutti concordi nell'individuare in Tiburtina la migliore soluzione gestionale e solo il Comune insiste su una posizione francamente inconcepibile. Una protesta abbracciata anche dai sindacati, in particolare da Ultrascorti? Sicuramente sì, questo è un problema che non riguarda esclusivamente la Marsica e l'Aquila, che indubbiamente rappresentano il maggior punto di partenza da parte dei pendolari verso Roma. Ma non dimentichiamoci che anche noi della costa gravitiamo su Roma per una serie di problematiche, dallo studio alla necessità di cure. C'è da dire che questo di Tiburtina è l'unico punto che ci permette anche di intercettare in maniera agevole il collegamento dell'alta velocità verso nord e verso sud e questo sforzamento ci arreca indubbiamente degli enormi disagi. È un'avvertenza da portare a conclusione perché non possiamo accettare questa mortificazione come cittadini abruzzesi. Voi volete che resti qui Tibus perché per vostra comodità, per carità giustissimo, noi perché abbiamo... Questo dunque è il servizio sulla manifestazione di ieri a Roma. Restiamo alle pagine del centro. Cambiamo argomento, bocciati in pubblica amministrazione per la CGA di Mestre, l'Abruzzo è quasi maglia nera tra le regioni europee. Poi vedete ancora un'altra pagina dedicata alla manifestazione di ieri sul bus con sole e pioggia, una vita da pendolari. E intanto nasce in Abruzzo il marchio ristorante tipico, un progetto della regione per valorizzare le eccellenze alimentari ed il buon cibo. Verso le regionali, settimana decisiva, quella iniziata ieri. Il leader della Lega, Bella Chioma, adesso basta, noi partiamo. Aspetteremo fino a sabato il nome del candidato di Fratelli d'Italia e poi accusa, non posso rimetterci la faccia. Dunque stringe il tempo, secondo il coordinatore regionale della Lega. E poi la voce dei sindaci di rinnovamento democratico, Sciullo attacca Di Matteo e Gerosolimo, pensano solo alle poltrone. E intanto Di Stefano va avanti e spacca il centro-destra. Io so ascoltare il territorio, con me 20 civiche per comporre tre liste e correre da presidente. Questo è il titolo, vedete, che riguarda la conferenza stampa di ieri di Di Stefano. All'Aquila in basso, i giovani democratici puntano invece su Legnini, siamo sul versante del centro-sinistra. Albano e Frattarelli è lui l'uomo giusto per andare oltre i partiti e vincere le elezioni regionali. Siamo alle pagine dalle nostre province. Partiamo da Pescara, notte da incubo, fidanzati malmenati e rapinati in centro. Prima gli insulti alla ragazza derubata della borsa e poi le botte, ma la banda è stata individuata grazie alle telecamere. E poi mense, 2.300 genitori attendono il rimborso della retta di giugno e molti hanno pagato in anticipo il servizio poi sospeso. Di Pillo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, vanno restituiti 74 euro ad ogni famiglia. E intanto il comune di Pescara pianta 127 alberi per sostituire quelli tagliati interventi in varie zone della città. Il rimpasto in comune a Pescara, ricorderete nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato in maniera dettagliata, le dimissioni dell'ormai ex assessore comunale Giuliano Diodati. E' partito l'ennesimo rimpasto in comune a Pescara, si era fatto il nome di Gabriella Lola Berardi come nuovo assessore, ma ieri sera, in tarda sera, è arrivato il no della Lola Berardi. Non accetto il posto in giunta, la consigliera rifiuta l'offerta del Sintaco. All'incontro con Di Matteo erano presenti solo due dissidenti del centro-sinistra. E vedete poi in basso, caro Giuliano, nessuno ha richiesto le tue dimissioni dopo che l'ex assessore Diodati aveva parlato di attacchi da parte del PD per farlo dimettere, arriva la replica del segretario provinciale del Partito Democratico, Enisio Tocco. Area di risulta, il piano promosso dai ciclisti, la FIAB favorevole ai progetti del Parco Centrale ai parcheggi, ma da alcuni suggerimenti su quello che si dovrebbe fare in questo caso. Cyberbullismo, le trappole della rete, attenti a come usate i cellulari studenti, a lezione dalla Polizia. All'Aurum, oltre 200 alunni di diverse scuole, all'incontro con gli esperti della Polizia Postale. E poi, vedete in basso, rischio ad escamento nelle sfide alla console, l'allarme del dirigente della Polizia Postale, Elisabetta Narciso, dietro il nickname usato per giocare, non sempre ci sono i bambini. Andiamo avanti, siamo sempre alla pagina di Pescara del centro, premio alle eccellenze della sanità, il riconoscimento promosso dall'associazione Ulisse 2000, anche all'equip del professor Schips. Proseguiamo, Montesilvano, il ricordo della strage, nel nome di Nassiria, ma non chiamateci eroe, il generale Toschi e la presidente Merita Pivetti, assenti alla cerimonia del premio, tra i sopravvissuti presente il tenente Derasis, gli iracheni rispettavano l'arma. Poi in basso, centro di raccolta, gli utenti sono già mille, nell'impianto di via In, inaugurato quattro mesi fa, registrato il millesimo cittadino che fa la differenziata. Proseguiamo, ancora Montesilvano, rifiuti sugli scogli ambientalisti contro i pesca sportivi. E poi città Sant'Angelo, costa 2.365 euro al mese, il noleggio del Fotored. In basso, spaccio in corso Umberto, arrestato giovane nigeriano. E poi, incidente stradale, fuoristrada con l'auto a 19 anni, cade una recinzione, ferito il giovane, fortunatamente, in maniera non grave. Siamo a Francavilla, rubato e recuperato lo spadino del 300, Madonna di San Franco, i carabineri trovano il pezzo pregiato in un comprooro di Ancona, sarà restituito alla parrocchia entro Natale. Asse attrezzato, chiuso di notte per lavori, un tratto del raccordo bloccato al traffico dalle 22 alle 6, nella zona, nel territorio comunale di San Giovanni Teatino, previste le deviazioni. Andiamo avanti, l'inchiesta sull'inquinamento, discarico di piano d'orta, 7 indagati, il sindaco di Bolognano, ai vertici della Edison, accusati di omessa bonifica, coinvolto pure il dirigente della regione Gerardini. Andiamo a centropagina, muore a 27 anni, eseguita l'autopsia domani, i funerali del 27enne di Loreto Aprutino. E poi in basso, l'abbraccio di Popoli al Santo Nunzio Sulprizio, dove a Popoli, proprio sul Prizio, il Santo, proclamato Santo proprio dal Papa, 20 giorni fa, ricevette la cresima, ieri il ritorno, la teca nella chiesa di San Francesco, fino a domenica. E poi ancora la cronaca, un altro incidente ieri a Colle Corvino, cammina sul bordo della strada, investito da un'auto. Proseguiamo, siamo alla pagina di Chieti, della provincia di Chieti, nella fattispecie a Vasto, stupri, chiesto il processo per i nove indagati, le denunce di due minorenni, chiuse le indagini sul gruppo, dopo i primi due arresti, dello scorso giugno, scattarono altri sette provvedimenti cautelari. E poi ancora droga, ancora Vasto, scusate, droga e spari, giudizio immediato, Vasto, operazione Clean Shirt, in 5 a gennaio, davanti al giudice. Lanciano, servizio lavanderia, in 4 a processo. Proseguiamo, la pagina della provincia di Chieti, ci porta ad Ortona, per il duplice omicidio, con la procura che vuole l'ergastolo, per Marfisi, presentato il ricorso contro la condanna a 30 anni, per l'assassinio della moglie e dell'amica, delitto premeditato, no alle attenuanti. Proseguiamo, siamo a Teramo, raccolta rifiuti, non a norma, scattano, sequestri, due gli indagati, inchiesta a Canzano e Castellalto. e poi, Università, nuovi vertici della fondazione, il CDA, ricepito la nomina dei docenti, Orru, come presidente, e Amorena, come consigliere. Andiamo a vedere un'altra pagina, di Teramo e Teramo provincia, sisma, 13 mila euro di premio al direttore dell'ufficio speciale, la decisione della regione scatena l'ira del consigliere fracassa, l'indennità di risultato non è stata legata alle pratiche vase, uno scandalo, visto che la ricostruzione, ha detto il consigliere, è ancora ferma. Inchiesta a Silvio, ottantenne derubato dal marito del badante, poi in basso ancora a Teramo, truffa con finte società in Romania, imprenditori accusano falso architetto Teramano per appalti mai ottenuti. Poi a Montorio, la cronaca, pakistano molesta bambina, la procura chiede il processo. Andiamo a vedere un'altra pagina del centro, sempre sulla provincia di Teramo, siamo a Silvi, Silvi Nord, le auto costrette a passare sulla pista, poi autorizzata manifestazione di motocross sulla spiaggia, sempre a Silvi, dove per la cronaca rubia il banco all'anziano che assiste, a giudizio il marito del badante, accusato di aver fatto due prelievi per un totale di 900 euro. E poi proiettato il documentario sul Nepal, realizzato dalla pinetese Sara Pavone, questo documentario che ha riscosso un grande successo. siamo alla pagina dell'Aquila del centro, il decennale del terremoto dell'Aquila, che ci sarà il 6 aprile del 2019, letta o barca, alla guida del comitato. Vedete il titolo a tutta pagina, il comune crea un ufficio speciale, le risorse saranno recuperate dai fondi, del 4% della ricostruzione. E poi, vigili del fuoco, alta adesione allo sciopero, Danibale del Conapo, all'Aquila astensione pari all'87,5%, prioritario il problema della caserma. Andiamo in basso, Mattarella e Lady Macron, Lady Macron attesi all'Aquila e 6 dicembre, solenne cerimonia di riapertura della Chiesa delle Anime Sante. È stato anche ufficializzato il comitato. Siamo alla pagina ancora di l'Aquila e l'Aquila provincia, morto a 54 anni sotto inchiesta all'amico, Fabio Pieri indagato per il decesso di Cerrone, che aveva ospitato nel progetto Case a Paganica, il PM ipodizza l'overdose. Andiamo poi a centropagina, nella Marsi Califondri confronto sul ruolo dei cinesi e poi, ancora Vezzano, arrestato il rapinatore del Garibaldi Caffè. L'inchiesta sull'addio al generale Guido Conti, la morte del generale, la procura archivia esclusa all'istigazione al suicidio, nessun legame con Rigo Piano, ma gli ex colleghi gettano nuove ombre e dicono mai ascoltati. In basso andiamo a Pacentro, tutto il paese per salutare la guida alpina Paolo Battaglini, che era scomparso domenica scorsa a Caramanico. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo andare però insieme a leggere le pagine interne del messaggero prima di fermarci per qualche istante. Ripartiamo da pagina 2, Tiburtina a rischio, Terminal Laraggi non riceve i sindaci abruzzesi, tanti gli amministratori alla manifestazione ieri di Roma, abbiamo visto anche prima il servizio, e poi verso le elezioni ufficiali di Stefano Scende in campo, liste civiche esponda nel centro-destra. Siamo alla pagina di Pescara, sei indagati per i veleni Montecatini, a pochi chilometri da Bussi la tomba dei rifiuti industriali, mai bonificati dalla vecchia industria chimica di Piano d'Orta. E poi, Diodati l'addio al veleno, Tocco, il segretario provinciale, nega pressioni del Partito Democratico. E poi andiamo a vedere un altro titolo in basso, bonifica parcheggi, bosco urbano, i sì all'area di risulta dal popolo delle bici. Ancora una pagina di cronaca dal messaggero, Daniele Toto nei guai per un'auto, l'ex parlamentare sotto processo, con i genitori per il crack della società di famiglia. E poi, carambola da brivido, lievi ferite per un neopatentato a spoltore. E poi, alla stazione, il deposito degli spacciatori, blitz della Guardia di Finanza, che ha rinvenuto droga proprio nei pressi dell'area di risulta. E poi, Medicina Italia, l'urologo Ships, tra i premiati a Pescara. Proseguiamo, FLA in archivio, un'edizione record per l'edizione che si è conclusa poche ore fa. E poi a Montesilvano, Nasseria, premiato proprio nella città adriatica, il tenente sopravvissuto all'attentato. Solfrizzi, Paola Minaccioni, coppia di rompente in scena. E poi ancora la cronaca, a Colecorvino, auto fuoristrada, travolge un pedone, ricoverato in ospedale a Pescara. E poi il giardino della memoria, Rigopiano, la Madonnina. Vedete nella foto, che ricorda le 29 vittime. Siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero parco urbano di Piazza Darmi, ancora in toppi sul progetto. E poi, Vardirex, l'esercitazione raccontata dai bimbi, momento di incontro e sensibilizzazione. E poi in basso, morto per overdose a Paganica, indagato l'amico. E poi il convegno del Rotary dell'Aquila, la città tra Medioevo e Rinascimento. Siamo a un'altra pagina, la seconda pagina della cronaca, dal capoluogo di Regione. Demolizioni e strade chiuse, traffico in Tilti, in centro all'Aquila. E poi via Sallustio, concorso per il Palazzo Ater. Più in basso, Urban Center, la valenza artistica di un logo ispirato al Forte Spagnolo. E poi cultura, natura e musica, due giorni di eventi. Siamo alla pagina della Marsica e della Valle Peligni e Castello. Sarà uno splendore. Siamo ad Avezzano. L'assessore Presutti commenta divertito la sua performance del provetto potatore. E poi l'ultimo saluto alla guida alpina nella sua pacentro, ieri nel centro in provincia dell'Aquila. E poi Avezzano, arrestato il rapinatore solitario del bar Garibaldi. E poi spostiamoci a Sulmoni, investimenti a favore dell'occupazione. Il Comune ha ottenuto l'erogazione di un incremento delle risorse finanziarie per il sociale. Tornando ad Avezzano, Sanità Odissea, per una semplice risonanza. Siamo a Chieti, Tribunale Presidente al Lavoro, una sede unica per tutti gli uffici. La sezione civile lascerà via Arniense e la possibile destinazione è l'ex Galliani. Baregea, traffico in tilt, non riusciamo a lavorare le spine del traffico di via Salomone, sempre a Chieti. E poi Comune nel caos, vendita della farmacia, tutto in bilico, i dubbi di Costantini. Sul voto. E poi Civitella, tornano i grandi spettacoli nel centro storico di Chieti. Spostiamoci a Lanciano, Lavanderia Aslin, quattro a processo. E poi Ortona, Piazza Plebiscito, ora è Piazza Canada. Ancora Lanciano, tentata estorsione a minore, dure condanne. In basso, rapina alla villa, i romeni trasferiti in altre carceri. E poi, basto, Comune esce da Pulcra, ok. Dal Consiglio, ancora basto, tacca, 64 strati, acquisita. E ancora, chiusa. E poi la cronaca, ci fa restare ancora nella città ragonese, incidente al porto, investito, un pescatore. pescatore. Siamo alla pagina di Teramo, del messaggero, Alex Manicomio, vedete il titolo di apertura, una torre e due teatri con mille posti. Il progetto approvato dall'Università, con dunque questa idea, di fare una torre con due teatri da mille posti. Piazza Dante, Rebus Conti, sulla gestione del parking. Di servizi, il comune senza la posta certificata, e poi botte alla madre per la droga, condannato a due anni. E poi l'inganno, addio, 900 euro della pensione, finisce sotto accusa la badante di un anziano. Siamo alla pagina della zona costiera di Teramo e della Val Vibrata, partiamo da Giulianova, comune blitz dei carabinieri, sequestrate le carte della scuola De Amicis. E poi Tortoreto, Cavatassi, condannato a morte. C'è una mobilitazione per chiedere la liberazione. del Tortoretano, che è stato condannato in Thailandia. Val Vibrata, trasforma il camion in ristorante, multato. E poi ancora Giulianova, due denunciati per un furto in boutique. Andiamo in basso, a fondo pagina, effettuata l'autopsia sul corpo di Valentino. Sono state rinvenute sostanze stupefacenti. E poi ancora Val Vibrata, ma in questo caso per parlare di politica, regione, il PD Blinda Pepe, centro-destra, pronto, De Annuntis. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport, dobbiamo però fermarci per qualche istante, poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di mattino 6. Seconda parte di mattino 6. Avevamo letto e visto insieme le pagine interne dei quotidiani, il centro e il messaggero. Siamo al quotidiano La Città, ripartiamo dalla cronaca regionale. Tutti uniti per salvare, vedete il titolo di apertura, il terminal dei bus. Ieri la manifestazione degli amministratori abruzzesi per dire no al trasferimento da Tiburtina a Nagnina. La politica Zingaretti porta a Piazza Grande in Abruzzo, il presidente della regione Lazio, candidato alla segreteria nazionale del PD, oggi in visita al social market di Pineto. E poi a Pescara. La cronaca giudiziaria, vedete in basso, vertici predison indagati per l'ex fabbrica di fertilizzanti, mai bonificata. Regionali di Stefano, si candida alla presidenza della regione Abruzzo, l'ex parlamentare lancia ufficialmente il suo progetto civico per le elezioni del 10 febbraio e spacca il centrodestra. Ex manicomio, siamo a Teramo, una torre dominerà la cittadella della cultura. Il progetto di ristrutturazione ha segnato allo studio d'architettura Desideri, uno dei più importanti d'Italia. In basso, vedete proprio su questo argomento, Paolo Desideri, l'architetto figlio d'arte, in un team di progettisti internazionale, davvero di assoluto rilievo. Rinnovato, siamo a Teramo, il CDA della Fondazione dell'Università di Teramo, oltre al nuovo presidente, Romano Orru, in consiglio entra Michele Amorena, della Facoltà di Medicina e Veterinaria. Proseguiamo, a Teramo attesi 10.000 redditi di cittadinanza, se la misura del Movimento 5 Stelle verrà mai realizzata, ne godrà il 7.8% della popolazione della provincia, secondo i dati elaborati dalla classifica del Sole 24 Ore. Ancora Teramo, ufficio tecnico, il Comune non decide, scaduto l'interim, segretario generale, adesso il turno provvisorio di Nicola D'Antonio. Andiamo a vedere, pagina 10, terapia intensiva più umana all'ospedale Mazzini di Teramo, rianimazione aperta ai familiari per migliorare le cure, la sperimentazione verrà estesa a tutti. Gli ospedali abruzzesi, vediamo poi nel concreto quello che dice questo sommario dell'articolo, il reparto resta aperto alle famiglie dei pazienti per nove ore, anziché due, ma in maniera ragionata e con dei professionisti. rivoluzione con polemica per le invalidità, ancora Teramo, 11 balletti di nomi per le commissioni mediche della Asle, ma nulla è cambiato sulla questione compensi. Via Rai Nero in festa per adotta una buca, castagne, salsicce e vino novello per protestare con i fiori contro lo stato della strada perpendicolare al corso del centro di Teramo. E poi commercio, le piazzole libere del mercato vanno a gara, e poi via De Gasperi decollo sullo spartitraffico, Smart travolge la fermata bus. L'antiterrorismo, un problema europeo all'Università di Teramo, il convegno di studio organizzato dal Rotary con l'esperto di sicurezza, Sandro Menichelli. E poi in basso, il popolo della famiglia deposita la proposta per il reddito di maternità, per presentare il testo del disegno di legge e iniziativa popolare, occorre raccogliere 50.000 firme in sei mesi. Salute sociale, una nuova rete regionale per i donatori di sangue, presentata l'anagrafe che incrocerà le necessità dei centri trasfusionali, con le chiamate a 120 gruppi di volontari. E poi iniziati cataratta dei nelle farmacie terramane, la campagna altri quattro appuntamenti previsti proprio a Teramo. Andiamo avanti, il calendario dei prati, l'esaltazione della natura attraverso le immagini, spettacolare presentazione del lavoro commissionato dalla Siget, all'editore ricerche e redazioni. E poi prati di Tivo, Zennaro e Bernardini, al lupo al lupo sugli impianti, i due onorevoli dei Cinque Stelle chiedono un intervento delle istituzioni locali. Cronaca, ristorante abusivo dentro un rimorchio, blitz del Nassi, in un bar della costa Teramana, che aveva aperto l'attività di cucina senza comunicarlo alle autorità. E poi Basciano, furgone si ribalta all'ingresso dell'autostrada, un ferito lieve. E poi Valle Castellana, ricette per rilanciare l'agricoltura abruzzese dopo le calamità naturali. Ci spostiamo in Val Vibrata, un altro indagato per gli spari in hotel, anche un pregiudicato pugliese nei guai per la rissa all'Atlante. E poi Tortoreto, attesa per la fine dell'anno la sentenza su Denis Cavatassi. E poi Alba Deatica, comune a caccia di chi non paga la tassa sui rifiuti. Sociale, posata a Giulianova, la prima pietra del nuovo centro diurno, lunga e toccante cerimonia, domenica mattina a Giulianova, in ricordo del progetto di Donenio Lucantoni. Vedete la foto della cerimonia. Siamo ancora a Giulianova, al Gualandi, il centro di gere mentale, nuova destinazione d'uso per l'ex sede di staccata dell'Università di Teramo. E Giulianova piange, la scomparsa del comandante Sandro Pezzuto, scomparso a Roma, all'età di 44 anni. Politica, l'ASMEL è ancora terreno di scontro tra articolo 1 e PD. Il commissario ha sposato l'idea di Mastromauro, uscendo dalla stazione della provincia. Siamo alla pagina del litorale di Teramo. Pineto abbraccia Sara Pavone, la solidarietà per il Nepal, è stato proiettato il documentario. E poi la politica, Pavone e Sottanelli ballano assieme, Abruzzo Civico e Roseto al centro, lavorano ad un accordo per le elezioni regionali. E poi in basso il riconoscimento, croce di bronzo, per il pompiere eroe pinetese Federico Pelusi, che la notte di Capodanno salvò un ragazzo dall'auto in fiamme. Il caso oggi in consiglio, la mozione salvarena presentata da Marcone Nunez per trovare una soluzione, per riaprire al più presto lo storico campo di basket di Roseto degli Abruzzi, se ne perderà in consiglio comunale. La pagina della cultura, o video e la musica, l'altro ascolto nel libro di Isotta, un grande affresco sul sulmonese, che arriva fino ad Annunzio, e poi Sinfonica Abruzzese, Teramo e Tortoreto, tra le tappe del viaggio di Mirabella, nel melodramma. Siamo arrivati alle pagine dello sport, possiamo partire dai tre quotidiani nazionali, iniziamo con la gazzetta dello sport, tormento pipita, Iguain non si sente protetto, l'espulsione contro la Juve, la rabbia, le scuse ed un sospetto. Dal Milan alla Juventus, con il superpotere, il Max, l'ultimo record di Allegri, la quarta panchina d'oro, tra i complimenti dei colleghi, lo show non serve, contano i risultati, ha detto Allegri. E poi, più in basso, Inter incompiuta, dopo il clamoroso capo a Bergamo, Spalletti, anch'io, sono colpevole. Corriere dello sport, si fermano, vedete in alto, aggressione agli arbitri, nel Lazio, la dura risposta dell'Aia. E poi, CR Max, Allegri, quarta panchina d'oro, nessuno come lui, Juventus, da record. E poi, allenatori nel caos, Ventura sotto accusa, Pelissi, mai visto uno così, Juric, rischia, Nicola ad Udine, questa la domanda, perché Ventura, si è dimesso da tecnico del Chievo, e come vedete, ci sono polemiche, Juric rischia, di lasciare, dopo poche settimane, la panchina del Genova, e Nicola ad Udine, potrebbe essere, il nuovo allenatore. Chiudiamo, con tutto sport, Max compra, italiano, quarta panchina d'oro, per il tecnico, della Juventus. Andiamo a vedere, ora, le pagine, dello sport, regionale, partiamo, dal centro, Allegri, vedete anche sul quotidiano abruzzese, c'è questa notizia, di nuovo, il migliore, imbattibile, come la Juve, quarta panchina d'oro, per l'allenatore, della formazione, bianconera, ma, nel fine settimana, torna la nazionale, ci sarà la sosta, dei campionati, di serie A, serie B, ci sarà, la sfida, degli azzurri, al Portogallo, e poi, a Coverciano, fa festa anche l'Abruzzo, Perez, siamo al calcio A5, dell'Acqua e Sapone, Marzuoli, del Montesilvano, premiati proprio, per il calcio A5, siamo invece, al Pescara, Pescara, reduce dalla sconfitta, di Palermo, scavalcato in classifica, di Rosanero, Pillon, prepara il nuovo assalto, la vetta, il tecnico, sfrutta la sosta, per ricaricare, il morale, dopo il K.O. in Sicilia, si riparte, il 25 novembre, contro l'Ascoli, poi altre cinque gare, per conoscere, le reali potenzialità, della squadra, e vediamo, nel dettaglio, quello che è, il programma, delle prossime cinque gare, che attendono, i Biancazzurri, fino, alla fine dell'anno, domenica 25 novembre, dunque, dopo la sosta, allo stadio adriatico, si giocherà Pescara-Ascoli, domenica 2 dicembre, alle 21, i Biancazzurri, saranno al Renato Curi, di Perugia, poi venerdì 7 dicembre, sempre alle 21, si giocherà Pescara-Carpi, lunedì 17 dicembre, sempre alle ore 21, ci sarà l'attesa sfida, del Bente Godi, con il Verona, il 27 dicembre, alle 19, il Pescara, ospiterà, allo stadio adriatico, il Venezia, e il 2018, si chiuderà, domenica 30 dicembre, con la gara esterna, che i Biancazzurri, giocheranno, alla Rechi, di Salerno, poi ci sarà la lunga sosta, si aprirà il mercato, e dunque, vedremo quello che accadrà, e come stavamo leggendo prima, sui quotidiani sportivi nazionali, ci sono delle panchine, che traballano, in serie B, quella dell'Ellas Verona, con Fabio Grosso, che resta in discussione, ma per il momento, resta anche, l'allenatore, dei giallo-blu, e poi, sempre in campo, Gravion, Brugman, e Memushai, intoccabili, tre giocatori, che non hanno saltato, una gara, del Delfino, siamo al Teramo, i Biancorossi, guardano al mercato, porte girevoli in attacco, Piccioni e Bacio Terracino, in ombra, Di Renzo e K, sono spariti, convince solo Barbuti, a gennaio, sarà rivoluzione, probabilmente, sì, vediamo anche, la pagina dell'eccellenza, Chieti rimonta da sballo, Lucarelli si coccola, il giocatore Rodia, con il cambio del tecnico, i teatini, hanno recuperato, nove punti, sono in testa, alla classifica, nel campionato regionale, di promozione, il Lanciano è una macchina da gol, Frentani, con l'attacco più prolifico, del torneo, Castelnuovo, sempre imbattuto, ma domani, tornerà, vedete il titolo, il campionato di Serie D, con il turno infrasettimanale, allora andiamo a vedere, si giocherà alle 14.30, il quadro completo, delle gare in programma, Avezzano, Forlì, vediamo anche gli arbitri, Monaco, di Termoli, e poi Castelfidardo, Recanatese, Matelica, Francavilla, arbitrerà, Porchedu, di Oristano, Montegiorgio, Isernia, Olimpia, Agnonese, Sant'Arcangelo, che si giocherà sul neutro, di Trivento, Cesena, Savignanesi alle 20.45, Real, Giulianova, Iesina, arbitrerà il signor Matera, di Matera, Notaresco, Pineto, Centi, di Viterbo, Bastese, Campobasso, Mirabella, di Napoli, vediamo un'altra pagina, che riguarda lo sport, il basket, in primo piano, con il Giulianova, caccia alla vetta, amatori col vento in pop, giallorossi a due punti da Sansevero e Bisceglia, Ropovini, Sorgentone, vuole il bis contro Senigallia, Adriatica, Presteramo, doppio turno in casa, da non fallire, e poi l'atletica, Gran Sasso Teramo, nell'elite nazionale dei lanci allieve, poi il basket di Serie A2, Roseto Sharks, ora serve un'impresa in trasferta, dopo la sconfitta con Monte Granaro, all'orizzonte due sfide durissimi, sui parchè di Udine e Imola, e poi il podismo da Lanciano ad Atene, Carosella e l'uomo del Cento Maratone, lasciamo lo sport del centro, andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero, poi chiuderemo con quelle del quotidiano La Città, Pescara sconfitta che non è un dramma, a Palermo sono mancati i tradizionali fari, ma i rosa nero sono costruiti per andare in Serie A, il riposo farà bene alla squadra di Pilon, Macin non usciamo, ridimensionati, e poi Melegoni e Antonucci in under 20, con Direttarai, tanti convocati, Memushai e Castrati dall'Albania, Lizzalde dall'Uruguay, under 20 dunque, il Pescara che riprenderà gli allenamenti domani, in questo caso il tecnico Pilon, dovrà fare a meno di tanti giocatori, che sono stati convocati dalle rispettive nazionali, e vedete il punto in basso, contro i più forti non basta fare cose normali, si parla del Pescara, della sconfitta di Palermo, e delle prossime gare, abbiamo visto anche dallo specchietto del centro, cinque partite da qui fino al termine del 2018, per vedere poi quale sarà la classifica dei Biancazzurri a gennaio, siamo alla pagina della serie C, della serie D, Teramo archivia i sogni di gloria, il pareggio con l'Albino Leffe, evidenzia la mancanza di un attaccante più continuo, ma De Grazia vede la situazione diversamente, senza Maurizzi l'avremmo persa, intanto c'è la polemica, perché Piccioni sostituito, infuriato contro tutti, il giocatore del Teramo, che è stato sostituito dal tecnico Maurizzi, siamo ai campionati dilettantistici di calcio, Rullo Lanciano, 11 vittorie in 12 gare, del grosso Smorza, la polemica per la gara, basta, non centriamo, e poi, ancora dilettanti di Francia, l'Aquila obbligata a vincere, e nel campionato di eccellenza, il patron del Chieti Di Giovanni, si gode il momento positivo della squadra, e parla anche delle presenze in crescita allo stadio. Siamo ad un'altra pagina dello sport del quotidiano Il Messaggero, parliamo di volley, di pallacanestro, di rugby e di tennis, partiamo dal volley, dalla siecortona, è l'ora della riscossa, puntando su Delfo per gli ortonesi, non è stato questo un inizio, un avvio di stagione sicuramente positivo. E poi, il basket di Serie A2 maschile, Roseto analizza i soliti 5 minuti fatali, da Arcangeli, il coach degli squali, fino a quel punto. Siamo alla pari con tutti, il ricordo di Cesare Pancotto, Fossataro, mi voleva agli Sharks Pancotto, che ha ricordato lo storico dirigente, Rosetano scomparso nei giorni scorsi. Siamo al rugby, quadrangolare Under 16, Abruzzo K.O. con onore, la sfida all'Aquila con i pari età di Lazio, Liguria e Sicilia. Il tennis, il giovane pescarese Sciacca, secondo nella Next Generation, dunque buoni risultati per il tennis abruzzese. Andiamo a vedere le pagine dello sport, del quotidiano La Città, ecco qui, Teramo è lecito a aspettarsi di più, nonostante un punto in due gare, il Diavolo è in linea con la rincorsa a salvezza, ma nella sfida con l'Albino Leffe, c'è stata una gestione eccessiva e deleteria. Vedete nella foto Lorenzo De Grazia, che esulta dopo il gol del momentaneo 1-0 con l'Albino Leffe, ricordiamo che i Biancorossi hanno pareggiato per 2-2, nell'ultima gara di campionato con la formazione della Val Seriana. Dalla Serie C alla Serie D, andiamo a Giulianova, Stallone per la prima volta noi incapaci di reagire, l'allenatore Giuliese parla della gara persa nell'ultimo turno, come detto domani in campo al Fadini, a proposito della giornata di domani, proprio in concomitanza con il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Vi ricordo che come sempre ci saranno i tradizionali appuntamenti in diretta per seguire le partite dalle 14.30 con Diretta Stadio e poi alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone. Proprio gli appuntamenti canonici che vi proporremo anche domani, nella giornata di mercoledì, per seguire come sempre nel dettaglio il campionato di Serie D di calcio. Andiamo a vedere la seconda pagina di sport del quotidiano La Città, Rosetor in corsa fallita al Palamaggetti, meglio le difese che gli attacchi, Montegranaro è più tecnica, ma gli Sharks hanno venduto cara la pelle. In basso il basket maschile di Serie B, in presa dell'Etomilu Giulianova, Teramo cade in trasferta al Paladolmen Biancorossi, ma in partita contro Bisceglie che vince largamente, blizzi invece dei giallorossi del Giulianova di Ciocca, sul parquet di Senigallia. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, l'appuntamento di martedì 13 novembre. La nostra rassegna stampa tornerà come sempre domani puntuale alle 8.00. Vi ricordo anche invece il prossimo appuntamento per quanto concerne l'informazione della nostra rete, come sempre alle 14.00 per la prima edizione del nostro telegiornale. A proposito di sport, non perdete questa sera alle 21.00, invece il consueto appuntamento del martedì con Jacopo Forcella e di suoi ospiti per Proteramo e per parlare dunque delle vicende del calcio biancorosso. È davvero tutto, grazie per averci seguito, grazie a Claudio Di Giacomo in regia dalla nostra redazione. L'augurio di una serena giornata. Grazie a tutti.